Giulio Del Monaco, 74 anni di Sulmona, è morto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila a seguito di un incidente stradale avvenuto il 1 ottobre nel quartiere San Francesco di Paola. Del Monaco era stato investito da un Apollo guidata da un 85enne. Trasportato d'urgenza prima a Sulmona e poi in elicottero all'Aquila, Del Monaco è stato sottoposto a intervento chirurgico, ma non ha superato le gravi emorragie interne. Stando alla ricostruzione dell'incidente effettuata dalla squadra volante del commissariato di Sulmona, il conducente dell'auto si stava recando nell'ospedale Peligno per alcuni accertamenti e Del Monaco, dal lato sinistro del marciapiede, stava attraversando la strada quando è stato travolto. Prima l'urto contro il parabrezza del veicolo, poi l'impatto sull'asfalto. Saranno acquisite le cartelle cliniche della vittima. Domani il magistrato deciderà per l'esame autoptico al fine di accertare il nesso tra incidente e decesso. Il mezzo è stato sequestrato e sono stati ascoltati i testimoni per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo con l'accusa aggravata da lesioni stradali o omicidio stradale. L'intera comunità di Sulmona è in lutto per la scomparsa di una persona molto stimata.